Le famiglie e le imprese Veneto l'anno scorso hanno pagato 10 miliardi in più di luce e gas. Ora i prezzi sono in calo, ma rimangono ancora molto elevati rispetto all'inizio del 2021. Se le spese per l'energia elettrica sono dunque aumentate del 109,5%, provocando un extra costo pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute del 126,4%. La stangata ha colpito più le imprese che hanno pagato 61,4 miliardi in più che le famiglie che hanno pagato invece 30 miliardi in più. Secondo quanto rileva la CGA di Mestre, il nord-est è l'area più interessata dagli aumenti. I nuovi aiuti previsti dal governo a partire dal prossimo aprile vanno rivisti e semplificati, soprattutto per le micro imprese che fino adesso hanno utilizzato solo la metà dei bonus messi a disposizione. Le regioni più penalizzate sono quelle con maggiori attività economiche, come Lombardia, Emilia e Veneto. A seguito dei rincari dei prodotti energetici, non tutti però ci hanno rimesso. Molte aziende nel 2022 hanno registrato un aumento di ricavi spaventoso.